Il giorno arriva la mail a questo artista finlandese, che mi farà attenzione perché domani no, questa finlandese è possibile che non vedo l'artista finlandese, ma da questa mail mi dice guarda che cosa ho fatto, no, qui c'è il peggio, qui c'è il peggio, qui questo è un po' di risposta, l'ho fatto per voi, la posizione grande, ha una volta compito, poi è grossa, io mi ricordo quando l'ho portata qua, quando io gli ho risposto non ho bacio per il trasporto, lui basta, è sparito, dopo un mese, ventura, magari a me, mi chiamo, si facevano un camion, ho indirizzato a lei, abbiamo giuato con lo svitatore, questa cosa ha detto, pochè, che misura io, meno male che sono altre volte, se no pagavamo un trattazione, la colta, infatti, questo rimanimo nessuno, beh, insomma, 400-500 kg di oro, quindi il peso del trasporto, cosa tagliate, io ho messo subito la base sotto le bovere, per infilare il trappare e portarla via, però non riusciamo a portarla via, perché c'erano argentini, tedeschi, 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 non argentini, tutti collate, ho visto che hanno portato di anche un gadget, adesso c'è, sono prega che no, mi spiace, sai perché, perché l'opera è l'opera, vedi che è bagunio, no, io mi spiace, a vedere a cosa, va bene, a dire, a vedere, ina oltre ho fatto comunque non, in poi è un'ultima cosa, ma, in pluggedgi, è un'ultima, in un piano, in un piano, in un piano, insomma, l'abbiamo qua, la prima, Grazie.